Sagra del pesce di Chioggia, 75esima edizione. Missione speciale, scoprire il segreto dello stand dei fasolari. Questo è l'obiettivo che ci siamo prefissi in occasione della tradizionale festa dei sapori del mare e della laguna, che ogni anno richiama uno straordinario afflusso di curiosi, ma soprattutto di buone forchette. L'indagine parte dalle informazioni in nostro possesso. Il fasolaro è un mollusco bivalve tipico dell'Alto Adriatico e dei suoi fondali sabbiosi, dove vive leggermente infossato a circa 15-20 metri di profondità. Ingrediente di antica tradizione gastronomica, è protagonista in questi ultimi anni di un'autentica riscoperta, che lo vedono in innumerevoli ricette, anche se per i puristi il modo migliore per assaporarne tutto il gusto è crudo. I nostri informatori in questa indagine sul segreto dello stand dei fasolari sono i pescatori che lo gestiscono e che ogni anno si trasferiscono dalle loro barche alle cucine della Sagra del Pesce. Riuniti nell'organizzazione i produttori i fasolari, hanno saputo creare una realtà che con i suoi oltre 80 pescherecci raggruppa tutte le imprese di pesca del Veneto e del Friuli specializzate nella raccolta del prelibato mollusco. L'organizzazione ha fatto della freschezza del suo prodotto il proprio biglietto da visita. Ma il quadro non è ancora completo. Da una rapida analisi in loco raccogliamo altri fondamentali indizi. Complici i ristoranti del Veneto, la partecipazione alla Sagra del Pesce arriva dopo un anno di promozione del fasolaro, forte della redazione di un ricettario contenente tutti i segreti per la sua preparazione. Tra tutte le prove raccolte, alcune sono schiaccianti. L'impressionante afflusso di gente allo stand registrato ogni sera, la riconferma del pasticcio di fasolari e zucchine e la new entry del fasolaro in saor. Nonostante il tentativo di depistaggio distraendoci con l'attrattiva di una degustazione del fasolaro crudo, dopo una rapida ricognizione tra i tavoli ed una perlustrazione tra i fornelli della cucina, siamo arrivati a scoprire il segreto che rende speciale lo stand dei fasolari. Qui si mangia bene e se dubitate della nostra scoperta, beh, buona indagine a tutti!